Ueeh, non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Ueeh, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai due giorni ci separano da quello che sarà veramente un qualcosa di rivoluzionario per quello che riguarda Fortnite. Le voci che si fanno sempre più insistenti del passaggio diretto dalla season 10 alla season 11 con l'evento di domenica sono veramente interessantissime e sembrerebbe che per la prima volta faremo un cambio di season al volo. Molte le cose che vengono aggiornate giorno dopo giorno anche in maniera invisibile da parte di noi sono davvero una roba incredibile, tante tante cose. Nel video di oggi ragazzi volevo parlarvi innanzitutto del nuovo stile sbloccabile del visitatore, magari dello scienziato. Magari alcuni di voi non lo hanno ancora preso, si può ottenere gratuitamente lo stile bianco con un semplice passaggio. Parleremo anche però dell'audio tradotto tutto bello bello delle tre musicassette che sono state recuperate e che lasciano intendere che non è assolutamente uno solo lo scienziato, neanche uno solo il visitatore. E ovviamente un bel po' di leaks per tenervi aggiornati sempre sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi seguono in live su Twitch e ovviamente tutti quelli che utilizzano il codice creator xyuderone. Grazie di cuore ragazzi per supportarmi nel canale mi raccomando iscrivetevi in tantissimi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live. Ma prima, ve la devo fare ragazzi, la domandina anche nel video di ieri mi avete risposto in tantissimi, grazie mille. Domanda di oggi molto personale. Ma te preferisci che ci siano i teaser per la season 11 oppure ti piace il fattore sorpresa? E sì ragazzi perché né l'altro ieri e neanche ieri è uscito nulla che riguardasse ufficialmente la season 11. Molti dicono che in realtà i teaser in questa stagione sono quelli tradotti nelle voci del visitatore il che ci potrebbe assolutamente stare perché ci sta dando un sacco di informazioni su quello che è successo con lo squarcio temporale, con il lancio del rocket della season 4 e con i mondi paralleli che si sono bloccati appunto in questa fenditura gigante. Ma quindi, ciancio alle bande e non parte. Vabbè, e bando alle ciance. Ogni tanto va, ogni tanto non va. Andiamo subito subito ragazzi a vedere la prima immagine, la più interessante. Combattimento finale. Complimenti direttamente ad IP Games. Arriva la possibilità di sbloccare la colorazione bianca del nostro bellissimo scienziato. Voglio farvi vedere come si fa. È veramente facilissimo, assolutamente. Basta semplicemente utilizzare la skin dello scienziato per poi atterrare ovviamente nel magazzino principale. Quello insomma dove c'è il rocket. Tra l'altro è iniziata anche la sirena. La potete sentire direttamente in game. Una volta avvicinati alla piattaforma, come vedete, automaticamente premendo il tasto interagisci, quello che utilizzate per raccogliere gli oggetti, il visitatore diventerà di colore bianco. E quindi otterrete non appena, potete anche tranquillamente abbandonare la partita, come ho fatto io, non appena rientrerete in lobby vi verrà garantito lo stile. Ovviamente dovete recuperare tutte e sei le musicassette, le registrazioni, altrimenti non sarà possibile ottenere lo stile extra del visitatore. E non mi parte mai il cavolo di coso, porco cavolo. Non si sa perché non parte. E' partito. Ma andiamo avanti ragazzi con il prossimo argomento. Si trattano ovviamente di leaks. Inseriti nuovamente nelle ultime ore delle parti di codice inerenti sia gli charm che la victory pose. Cosa sono gli charm? Che cos'è la victory pose? Allora, gli charm ragazzi sono i ciondoli che si potranno utilizzare per abbellire le nostre armi. Già ne avevamo parlato all'inizio di questa season e anche addirittura a metà della season 9. Non sono mai stati portati ufficialmente in game, sebbene sia presente nei file di gioco il primo charm, che non è altro che la coda della volpe phoenix, la skin, insomma che è uscita la scorsa season, se non ricordo male, potrebbe anche essere uscita in questa ora, non mi ricordo. Dovrebbero arrivare magari nella season 11 insieme alle victory pose. Che cosa sono le victory pose? Dovrebbero essere i balli, le emot che verranno riprodotte automaticamente al momento della vittoria. In modo appunto da non perdersi neanche un secondo per una vittoria reale e avere il personaggio che possa ballare il vostro ballo preferito. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento, andiamo invece direttamente nei file dove si può vedere che, anzi voglio farvi ascoltare tutto il discorso del visitatore. Forse è meglio che per farvelo capire meglio io mi alzi leggermente, oh 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 oh, volo! Eccolo qua ragazzi, ve lo faccio sentire. Eccolo qua. i altri parla praticamente di lui e di atti che si ripropongono a successione insomma ragazzi anche per chi vuole tradurre leggermente tutto quello che ha visto fino adesso in poche parole posso anticiparvi che lui dice che la mappa non ha la forma della mappa prestabilita il che vorrebbe dire che la versione beta tra virgolette di fortnite in una mappa può essere associata al discorso del visitatore il che vuol dire appunto fine della versione beta fine della mappa di prova dice anche che ci sono stati dei problemi che si è creato un loop e che quindi viene lui e gli altri intrappolati vengono intrappolati in questo ciclo infinito il fatto che parla di altri potrebbe essere associato alla descrizione dello scienziato e del visitatore fa parte dei sette quindi molto probabile troveremo nella season 11 il terzo o addirittura tutti gli altri che fanno parte di questa nuova categoria insomma ragazzi staremo ovviamente a vedere quello che succederà e andiamo avanti con l'ultimo argomento molto molto velocemente non è assolutamente qua ma è in realtà un video che ci ha pubblicato direttamente fortnite e che parla della possibile creazione del nuovo film o comunque della nuova cortometraggio animato voglio farvi vedere questa cosa meravigliosa siamo proprio negli studi non penso di ap games direttamente ma guardate come fanno loro a fare le animazioni avete presente è forte è molto molto forte ragazzi vedere come ci sia del lavoro dietro anche al possibile nuovo cortometraggio o addirittura al nuovo film dedicato a fortnite insomma ragazzi tante tante cose anche per questa giornata di aggiornamenti e di news io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video mi raccomando iscrivetevi in tantissimi ai canali e soprattutto noi ci vediamo alle 8 in live su twitch ciao e non parte l'altro grazie a tutti grazie a tutti